Da qui al 30 dicembre i conti di Abanoa saranno passati ai raggi X dall'Advisor scelto nelle settimane scorse dall'Assemblea dei Soci dell'Ente Idrico, costituita da Regione Comuni. Mercoledì, infatti, la società Deloitte ha preso possesso dell'incarico di Advisor per la verifica e la certificazione della situazione finanziaria e dell'organizzazione aziendale di Abanoa. Ne dà notizie all'Ufficio del Commissario Straordinario per la Regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna. L'incarico è attualmente ricoperto da Alessandro Bianchi, sindaco di Nuoro, che ha proceduto all'affidamento formale dell'incarico recandosi con i rappresentanti della società Deloitte nella sede di Abanoa. L'attività dell'Advisor, spiega una nota, sarà articolata in tre fasi. Il primo passo consisterà nell'elaborazione e presentazione di una chiara ed esauriente relazione sulla situazione patrimoniale, finanziaria e contabile ed organizzativa di Abanoa, con particolare riferimento ai rilevi evidenziati dagli organismi di controllo interno nel corso dell'Assemblea dei Soci tenutasi a maggio. La seconda fase dovrà individuare le azioni volte al superamento delle problematiche rilevate. Il terzo ed ultimo intervento riguarderà la verifica dell'attuazione degli adempimenti individuati da parte della società. L'Advisor si è impegnato a comunicare lo stato di avanzamento della procedura sia al Commissario che agli azionisti, con apposite relazioni mensili. Nella nota il Commissario straordinario Alessandro Bianchi si è detto fiducioso che il lavoro svolto dalla Deloitte sarà utile ed efficace per dare alla gestione della società il livello di trasparenza e di chiarezza richiesto dai soci e dagli utenti. Il mese scorso l'Assemblea dei Soci ha varato una capitalizzazione di 142 milioni di euro sottoscritti dalla Regione che però non aumenterà il suo peso azionario. Polemiche sono sorte per il fatto che il via libera dell'Unione Europea alla capitalizzazione potrebbe essere condizionato alla privatizzazione di Abanoa. I conti dalla società idrica, che ha un pesante deficit, sono anche sotto la lente di ingrandimento della Procura di Cagliari che ha aperto un'inchiesta.